Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati nel canale come avrete letto dal titolo oggi video dei top flop dell'anno precedente ovvero il 2017 se siete nuove iscritte di cosa parla questo video? praticamente io e Giada del canale Giagia Makeup ogni mese facciamo un video in collaborazione e vi mostriamo sempre i nostri prodotti o accessori top e flop del mese precedente però appunto essendo nel 2018 abbiamo deciso di non farvi vedere i nostri prodotti top e flop di dicembre ma dell'intero 2017 ho deciso in questo video di non mostrarvi i miei prodotti flop ma solamente i miei prodotti top quindi io direi di prepararvi perché qui ho un bel po' di cosine quindi preparatevi una tazza di tè una cioccolata calda non lo so e iniziamo allora ho avvicinato un pochino l'inquadratura così potete vedere per bene tutto quanto l'anno scorso diciamo che sono state moltissime scoperte soprattutto per quanto riguarda la parte skin care cioè cura della pelle quindi io direi di iniziare proprio dalla skin care prima di tutto vi voglio mostrare questo siro qui dell'azienda Timeless Skin Care che appunto mi è stato inviato da loro insieme anche a un altro siro che però io non sto utilizzando perché per la pelle è un po' più matura io sto utilizzando questo siro qui che è il Coenzyme Q10 la mia pelle risulta molto più luminosa da quando sto utilizzando questo siro per chi mi segue da un po' sa che ho la pelle grassa però questo qui mi illumina proprio come da un effetto di salute non quell'effetto orioso anche perché è un siro molto acquoso che si asciuga veramente alla velocità della luce però comunque ho già fatto una recensione dettagliata su questo siro magari vi lascio il video recensione sia qui che giù nell'info box comunque è uno dei prodotti veramente più top del 2017 per quanto riguarda i detergenti ve ne mostro due e sono questo qui della Himalaya Herbals ed è un detergente per pelle normale e grassa purificante pur essendo un gel purificante non va assolutissimamente ad aggredire la pelle quindi renderla magari un po' più secca ma da un aspetto molto luminoso alla pelle appunto pur andando a eliminare tutte le varie schifezze della pelle grassa e poi vabbè il profumo è assurdissimo questo qui praticamente è la mia prima full size perché io avevo provato già un campioncino che mi avevano dato al Cosmoprof avendo praticamente perso la testa per questo detergente sono andata subitissimo a ricomprarlo il secondo detergente che vi mostro è questo qui che è della Delidea che è una delle mie marche in assoluto preferite bio ed è un gel detergente delicato questo qui ma soprattutto è per pelli secche e normali perché vi dico questo? prima vi ho detto che ho la pelle grassa però non so per quale motivo a periodi la mia pelle tende ad essere sia grassa che in alcuni punti secca quindi devo per forza alternare questo qui pulisce in profondità ma non è per nulla aggressivo anche questo qui lascia la pelle luminosa senza ongerla questo qui fa parte della linea appunto per le pelli secche e normali però alfico e uva spina poi passando agli accessori finalmente come avrete notato nel 2017 sono tornati di moda i choker gente io adoravo da piccole choker quindi il 2017 ha fatto tornare di moda i choker e io ovviamente sono impazzita e ne ho comprati sia un po' che però ne ho fatti fare un po' troppi dalla fidanzata di mio fratello che mi raccomando andatela a seguire su Instagram perché realizza gioielli e soprattutto choker di ogni tipologia raga sono spettacolari tipo questo qui che ho indosso in questo momento l'ha fatto lì e mi sono resa conto che forse ho esagerato vedete qui queste tre bustine sono piene 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 di choker e sì bene quindi vabbè diciamo che ho i choker per ogni occasione e il secondo accessorio che davvero io quest'anno sono impazzita e è una novità in realtà cioè vi spiego sono questi cerchietti qui in oro io non utilizzo accessori dorati sono sempre andata di più per l'argento cioè non l'argento l'argentato ecco a me non interessa se è bigiotteria o oro vero non mi interessa parlo proprio di colore dorato o argentato sono sempre andata appunto sull'argentato non so perché l'anno scorso ho voluto sperimentare e mia nonna mi ha regalato questi cerchietti qui e a tal proposito il mio ragazzo dice che sembrano degli orecchini da bimbina però vabbè e mi piacciono molto non sto tanto male male pensavo col fatto che ho un sottotono giallo detto non so il dorato con un sottotono giallo forse non lo so però in realtà questi orecchini non so mi piacciono molto e non sono nemmeno malaccio poi passo una delle categorie più amate nel mondo del make up ovvero gli illuminanti gente gli illuminanti che ho amato in assoluto di più nel 2017 sono questi due questo qui è il merillumanizer di The Balm come si fa a non amarlo è un color champagne meraviglioso ma soprattutto io sono innamorata della sua texture perché al contrario della maggior parte degli illuminanti non mette in evidenza magari le pellicine o i pori dà sempre un effetto di pelle piallata invece per quanto riguarda illuminante illuminante cioè ora capite è questo qui appunto di puro bio perché è uno degli illuminanti più luminosi che ho ma soprattutto fa parte dei miei top per quanto riguarda anche la colorazione favoloso l'ho sbocciato un attimino qui è assurdissimo pur essendo low cost è uno degli illuminanti più luminosi al mondo quindi sono super fira di questo acquisto poi passiamo alla seconda categoria più amata nel make up ovvero categoria labbra o meglio rossetti liquidi perché io sbaglio dico sempre tinte labbra ma in realtà sono rossetti liquidi io non avevo mai provato i rossetti liquidi di nabla e posso dire che sono in assoluto i rossetti migliori che io abbia mai provato o almeno per quanto riguarda la colorazione che ho io ovvero fetish move che fa parte della collezione estiva 2017 io mi ci sono trovata da dio ha la profumazione di cocco e vaniglia e se non mangiate i cibi oleosi vi rimane su tantissime ore ovviamente sappiate che qualsiasi tinta labbra cioè rossetto liquido con cibi oleosi va via a meno che non sia una tinta labbra ovvero va a tingere le vostre labbra quindi non andrà via nulla al secondo posto c'è la NYX Lingerie nella colorazione French Made che poi fa anche parte dei prodotti top di NYX Professional Makeup mi dimentico sempre che ora è NYX Professional Makeup però io questa tinta la vado ad applicare con lo scovolino della tinta di Sephora perché per gusti personali e anche per la resa che ho notato questo scovolino è ideale per l'applicazione di ogni rossetto liquido poi per continuare con NYX Professional Makeup vi faccio vedere la categoria occhi devo aggiungere qualcosa? non penso questo qui è l'eyeliner Epic Ink Liner che ho ricevuto da loro a luglio io lo utilizzo tutti i giorni e non è ancora finito non so come sia possibile che non è ancora finito gente lo scovolino è assurdissimo si possono fare linee un po' più doppie linee fine si possono creare anche dei disegni e lui è qui lui è qui non termina io non so quanto altro ancora mi durerà so solo che è l'amore della mia vita poi rimanendo in tema NYX Professional Makeup la palette più utilizzata è questa qui è la Lid Lingerie ha delle colorazioni che si utilizzano davvero tutti i giorni l'unico colore che non riesco tanto ad utilizzare è questo qui che è un rosa rosa carne però non lo so sembra leggermente scimmerino non so è un colore che non mi attira più di tanto i colori che utilizzo in assoluto di più di questa palette sono questi due questo qui in particolare perché dopo aver messo primer io non vado a mettere il correttore vado a mettere il fondotinta poi vado a fissare anziché con la cipria con questo ombretto che è praticamente identico al colore della mia palpebra categoria occhi pottini sono questi due il primo pottino è la brow pomade di Nabla cioè quella non so come si dice in italiano pomata non lo so comunque tutto ciò che c'è in questo momento sulle mie sopracciglia ed è nella colorazione più scura per il fatto che io ho i capelli neri sappiate che ho fatto un'estate con questo su a mare e gente non andava via finalmente il mondo non ha visto le mie sopracciglia struccate che praticamente non ci sono le mie sopracciglia perché sono biondo platino perché io in realtà sono bionda comunque poi secondo pottino invece è questo ombretto in crema di Wicon al di là della colorazione spettacolare perché è una colorazione duochrome rosa e dorata quindi spettacolare ma la cosa più wow è che quando si asciuga oddio ok va bene continuo a sfumare non so fino a quando continua va bene la cosa spettacolare è che quando si asciuga non va via io faccio fatica anche con lo struccante bifasico quindi se cercate un ombretto in crema che si fissi e non va via nemmeno appunto con lo struccante bifasico vi consiglio questi qui di Wicon anche perché poi hanno colorazioni particolari passiamo alla categoria struccanti ecco lo struccante bifasico della Chiotis questa è la mia seconda bottiglietta e appunto sto per iniziare la terza che ho già comprato gente perché non può mancare e strucca tutto alla grande tranne appunto questo qui cioè lo strucca ma con un po' di fatica per quanto riguarda invece struccante pennelli gente questo qui è lui in realtà è uno shampoo ed è lo shampoo per pennelli di Sigma è un simil olio secco quindi va a pulire i pennelli senza andare a ingrassare o creare schiuma ed è spettacolare leva dai pennelli appunto anche prodotti bifasici e quindi top l'unica cosa è che mi sta finendo ho già finito la prima boccettina e questa è la seconda e poi non ne ho più quindi sono molto triste siamo quasi alla fine e vi mostro i pennelli più utilizzati del 2017 sono tutti e due pennelli Sigma questo qui lo utilizzo per sfumare l'ombretto ogni tanto ci applico anche l'illuminante invece con questo qui utilizzo i prodotti in crema tipo correttore o ombretti in crema oppure anche con questo qui spesso vado a mettere l'illuminante perché lo rende molto più luminoso questo qui piatto si chiama Large Shader è 60 mentre questo qui si chiama Tapered Blending è 40 se siete interessati ad acquistarli vi lascio giù nell'info box dei codici sconti perché facendo parte del programma affiliazione di Sigma ho dei codici sconti per voi ultimi due prodotti di top sono questo contorno occhi della Cien è un contorno occhi low cost ma che nutre in profondità in una maniera assurda senza andare ad ingrassare questo qui in particolare è della linea normale quindi non anti-aging perché la linea anti-aging se non sbaglio è almeno grano invece questo qui è alla rosa è ultimo prodotto che io veramente sto adorando ciglia finte gente sono queste qui che ho in questo momento che mi avete visto nella maggior parte dei video e sono della Nouveau Lashes non vi so dire il prezzo perché queste qui mi sono state inviate ogni qualvolta indosso queste ciglia ricevo tantissimi complimenti perché danno un effetto veramente naturale però rendono lo sguardo molto più bello quindi ragazzi e ragazze questi erano i miei prodotti top in assoluto di tutto il 2017 mi raccomando iscrivetevi al canale e mi raccomando ovviamente andate a vedere anche il video di Giada fatemi sapere però ovviamente quali sono i vostri prodotti o accessori o altro top dell'anno scorso e niente io spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao